Ciao ragazzi, allora voglio condividere con voi la mia skincare domenicale, ormai una routine della domenica sera e quindi mi fa davvero piacere condividerla con voi, quindi farvi vedere i prodottini che uso e i vari passaggi quindi vi lascio a questo brevissimo video e vi mando un bacione, ciao! 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 Ciao!